Ciao a tutti dall'investigatrice spirituale, questo video è in collaborazione con filosofo Accademo e prende in esame un cantico dei testimoni di Geova che poi è diventata anche una canzoncina per bambini e che fa riferimento alla persecuzione nei confronti dei testimoni di Geova, come avviene con calunnie, quindi le notizie diffuse dagli apostati e minacce. Il titolo del cantico è Dio concedi più coraggio. Chiediamo solo a te e il tuo spirito ti chiediamo o di questa suffica a me, io concedi più coraggio a noi testimoni tuoi. Guardate le immagini, c'è il bambino testimone di Geova in giacca e cravatta che va in predicazione e si ritrova davanti il compagno di scuola, e beh, situazione imbarazzante che richiede coraggio. Stesso discorso per la bambina in pausa pranzo con le amichette di scuola, che ha bisogno di coraggio per fare la preghiera davanti alle amichette prima di mangiare, ma questa potrà essere un'occasione per parlare anche con loro della sua fede. Volevamo condividere con voi questo video e... Beh, aspettiamo i vostri commenti, diteci che ne pensate. Alla prossima! Grazie a tutti!